Chester dei ricerchi rottano con l'aiuto del nastro, pala dietro per Crozer, inchioda il piede di Greville, Sarra, 4 a 3, Monza. Cisara dai 9 metri per Piacenza, ricezione di Davi Schiva perfetta sulla testa di Orduna che sceglie Giavoron, il muro palla a difesa di Rossara che non può attaccare perché la palla è fuori misura, Federici palla dietro ancora per Giavoron, Murato, Davi Schiva la tiene su, Orduna va da Crozer e batte! di potenza, Brizar! Grazie per la parte fa! Questa è una delle due tre di una percela, ci sono dei tre di una percela. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti